Sarà un teatro maruccino più bello, accessibile e tecnologico, quello che la città di Chieti potrà ammirare a partire dal 7 di ottobre. Poltroncine con monitor, ascensore e posti per disabili, videoball e più in generale un restyling della struttura da 650 mila euro per garantire un nuovo futuro al teatro. Il futuro è sicuramente nel solco di quanto fatto in questi anni, cioè un teatro che non solo conserva il titolo di teatro di tradizione ma che è il punto di riferimento per la lirica in Abruzzo ma che ha un grandissimo successo con la prosa, l'abbiamo dimostrato con gli oltre 500 abbonati di questi anni. Si parte dunque con la lirica nel solco della tradizione. Una ripartenza in presenza con la traviata di Giuseppe Verdi l'8 e il 10 di ottobre con la direzione di Daniel Oren. In cartellone anche l'Elisir d'Amore di Doninzetti il 12 e 14 di novembre e un omaggio ad Astor Piazzolla con l'opera tango Maria de Buenos Aires il 12 di dicembre. Finalmente torniamo in presenza. Lo scorso anno è stata una grande operazione perché siamo riusciti a ristorare veramente le forze lavoro, le compagini, le maestranze che lavorano in un teatro. Certamente la mancanza del pubblico ha creato un vuoto assordante e stridente soprattutto alla fine degli atti e dell'opera intera. Resta ancora un punto interrogativo il limite di spettatori che potranno acquistare i biglietti. Per ora dei 440 posti omologati ne sono disponibili 220 ma il numero potrebbe arrivare all'80% della capienza nel caso in cui il governo dovesse dare il via libera. Piccolo aumento dei biglietti del 15% circa ma loggione che resta invariato. Chi è in possesso dei voucher potrà utilizzarli per la nuova stagione fino al 31 di dicembre. Nell'anno in cui pesantemente provati sotto il profilo psicologico oltre che fisico riapriamo il teatro nuovo alla città non si poteva in qualche modo stare a guardare il budget più di tanto. Lo dobbiamo guardare, lo devo guardare, non dormo la notte però penso che sia stata una scelta giusta.